Un famoso maestro argentino che ha allenato grandi tennisti internazionali, capaci di scalare le classifiche ATP di livello mondiale, sbarca in Laguna. Miguel Diamantopoulos è il nuovo responsabile della scuola tennis del Tennis Club Lido al Lido di Venezia. Il club, uno dei circoli più antichi d'Italia, con nell'arbo d'oro anche la conquista di due Coppa Italia, punta così al grande rilancio. Il benvenuto è un maestro da parte della presidente del club, Elena Costantin, insieme al vicepresidente Fabrizio Franzoi. Vorremmo ufficialmente dare il benvenuto al nuovo maestro di tennis, Miguel Diamantopoulos. Da aprile è qua con noi e combatteremo insieme questa nuova battaglia per rilanciare il Tennis Club Lido. Diamantopoulos è già pronto a sfoderare la sua racchetta che ha forgiato grandi talenti. Trovo che il Lido sia un posto meraviglioso e credo proprio che il Ticci Lido in particolare merita tutto il mio sforzo per portare avanti la nostra attività che è il tennis. Grazie. Grazie. Grazie.